I due modelli, il modello consumer e il modello professionale, condividono moltissime parti meccaniche, quindi sicuramente la stessa sezione camera, quindi il sensore e l'ottica, che è una 20x, che è una G-Lens Sony di ottima fattura, quindi il sensore, il corpo macchina, nonché per una delle prime volte i connettori Canon, quindi anche il modello consumer ha i connettori Canon, per tutte queste funzionalità, diciamo, meccaniche, le macchine sono identiche, quindi non ci sono differenze. Come vi ho raccontato prima, appunto, la registrazione in 4K avviene dentro questi slot su queste card XQD, che sono dedicate esclusivamente al 4K, quindi se io uso questo concorder in HD, posso tranquillamente usare le mie SDHC e registrare nello slottino dedicato. Per adesso non è previsto il parallel recording, quindi per adesso non ci sono state richieste da parte di voi, diciamo, consumatori di questo oggetto, di introdurre la possibilità di fare una registrazione parallela. Però sappiamo già dai colleghi che, se ci sarà una richiesta in questo senso, sarà possibile farlo. Aprendo un po' i vani posteriori, vengono fuori un po' di cosini interessanti. Allora, innanzitutto addirittura il composito, l'uscita composito per poterla vedere veramente sul televisore che troviamo magari in hotel, perché la bellezza di questi oggetti sta nel fatto che un giornalista che va a fare un reportage da qualche parte dove non c'è niente, sicuramente un TV a colori in albergo ce l'avrà in camera, anche piccolino, con questa macchina lui si può collegare tranquillamente un cavetto dietro all'ingresso SCART e vedere i filmati che ha registrato. Quindi questa è una possibilità che magari con un'altra macchina super mega accessoriata di alto profilo non possiamo avere, quindi è una cosa in più che possiamo fare. Uscite HDMI ovviamente, ormai la utilizziamo ovunque, anche io adesso sto andando in HDMI, questa macchina incorpora in questo momento un HDMI 2, quindi è già pronta per la nuova interfaccia che appunto stanno per arrivare. Sapete che esistono oggi tutti i dispositivi hardware che trovate in giro, hanno la 1.4, quindi la 1.4 che è il minimo sindacale per poter trasferire il 4K. 4K come dicevo prima ha bisogno di una banda passante, ha un bitrate molto elevato, per cui deve mandare su questo cavo un grandissimo quantitativo di informazioni. Per quello è stata sviluppata la HDMI 2, pensate che sul connettore possono passare fino a 18 gigabit al secondo, 18 miliardi di bit al secondo, più 32 canali audio digitali a 48 bit, quindi a 16 bit 48 kilohertz, quindi assolutamente un'interfaccia notevole. Questa macchina è già dotata di questo tipo di cose. Altri due connettori sicuramente utili da trovare sono la possibilità di genlockare il timecode esternamente, e l'uscita HD-SDI in HD solamente per adesso, non in 4K, e la possibilità di solo del timecode. È ovvio che se una troupe lavora con più camere ho la necessità di genlockare il timecode interno della macchina ad un valore comune a tutti i rancori, per cui c'è la possibilità di genlockare attraverso questo connettore appunto posteriore. Il modello consumer registra solamente in quad full HD, vuol dire che quello che io registro lo rivedo su un televisore Bravia, o ovviamente di altra marca, per cui finisce lì, mi serve i 4K e solamente un quad full HD, quindi la declinazione destinata al televisivo. Oppure lavora in alta definizione, ovviamente questo è dato per scontato. Nel modello professionale, la 100, abbiamo il 4K, 4096x2160, e il QFHD, 3840x2160. Quindi questa qua fa tutti e due i modelli, e l'HD ovviamente. Il codec è diverso, quindi nel modello consumer utilizziamo l'XAVC-S, che è la versione consumer dell'XAVC. Ovviamente ha un bitrate più basso, vedete, 150 Mbps massimo, quindi assolutamente. Qui non è necessario usare le card S, si possono usare delle card XQD di tipo normale, che trovate in giro nei negozi tranquillamente, quindi non è necessario. Il modello professionale, viceversa, utilizza un XAVC intra. L'intra è un grande valore aggiunto, il fatto che sia intra, ossia la compressione avviene all'interno di ogni singolo fotogramma. A differenza dell'MPEG-2 Long Hop, per esempio il codec adottato dall'XICAN, che è un Long Hop, per cui la compressione avviene su un certo numero di fotogrammi. È un codec bellissimo, anche quello destinato alle news, al prime time, cioè ovviamente codec di altissimo profilo qualitativo. Però l'XAVC intra è un salto in più, cioè la compressione avviene all'interno del fotogramma e ogni fotogramma appunto viene trattato singolarmente. Il wrapper MXF sull'acento, quindi un Material Exchange Format, è il formato di interscambio ufficiale tra tutti i broadcaster. Nessuna macchina non MXF, se una macchina non è MXF non viene utilizzata, si tende a non utilizzarla nel mondo professionale, soprattutto perché l'MXF ha un grande supporto per i metadata, che oggi vengono utilizzati moltissimo, tanto dai broadcaster, ma anche dai freelancer ormai. Il wrapper viceversa dell'acento è MP4, quindi è un wrapper che noi abbiamo utilizzato su molte macchine, è un wrapper però non adatto alla gestione dei metadata, ha un handling molto molto basso dei metadata, non ci sono moltissimi di metadata. Vedete anche la profondità, 8 bit verso 10 bit, quindi anche quello vuol dire qualità di immagine, assolutamente, quindi sono i livelli di quantizzazione che si possono ottenere in un segnale video, 10 bit vuol dire 4 volte tanto. rispetto all'8 bit. 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 Grazie a tutti